Allora, dato che oggi volevo fare una costruzione in santa pace, mi sono deciso a mettere finalmente una recinzione anti-village Speriamo solo che funzioni Bentornati sul canale, sono Alex, siamo ragazzi qui insieme in un nuovo video di Minecraft Ci siamo ragazzi per creare un ascensore facilissimo e con un congegno abbastanza ridotto Così non dovremmo tipo distruggere mezza casa per poterlo fare Però mi raccomando prima di cominciare questo video un bel pollicione su Perché è importantissimo, se non lo avete ancora fatto potete iscrivervi al canale E attivare la campanellina per essere aggiornati dei prossimi video Dato questo andiamo subito alla cassa dove troveremo tutto quello che ci servirà per la costruzione di quest'oggi Allora, comincieremo ragazzi con un blocco di redstone, dei fornifusori, ripetitore di redstone, polvere di redstone, torcia di redstone, lana bianca, pistone appiccicoso, blocco di slime, legno di quercia, scortecciato, qualsiasi cosa vi piaccia Calcestruzzo azzurro, pulsante di quercia e calcestruzzo bianco Questo è tutto il congegno ma anche per l'estetica quindi veramente non ci servirà assolutamente niente di particolare e soprattutto si farà in 5 minuti Cominciamo subito andando in questa zona qua facendo un bellissimo 5x4 quindi 1, 2, 3, 4, 5 e ci alziamo di 4 quindi 1, 2, 3 perché 4 l'abbiamo già qua E facciamo una bellissima chiusura in questo modo qua Dopodiché fatto questo scendiamo di un altro blocco esattamente così fino a formare uno strato doppio Fatto questo però non è che finiamo da qua, no assolutamente no Prendiamo subito un bellissimo ripetitore e facciamo sbam ripetitore qua e ne mettiamo un altro anche qua davanti in questo punto Dopodiché gli diamo tutti i tocchetti che servono, tutti quanti, li apriamo completamente Andiamo a mettere qua sopra un blocco di lana, una polvere di redstone, un altro polvere di redstone esattamente qua sotto ma stavolta senza il blocco E poi qua sopra ci mettiamo un pistone, esattamente deve venire una specie di congegno fatto così Però non è ancora finita perché adesso mettiamo sopra un blocco di slime esattamente qua sopra e lo circondiamo con dei forni fusori Esattamente in questo modo qui Facciamo un bel giro così e ne mettiamo uno anche qua sopra Consiglio sempre di metterlo dietro così se non vi piace la bocca del forno almeno a fine costruzione non si vede Allora, fatto questo adesso andiamo subito qua sopra Prendiamo, in questo caso prendo un blocco di calcestruzzo bianco e glielo ficco esattamente in testa In questo modo qua Prendiamo subito un pulsantino, eccolo qui e lo andiamo a mettere qui in cima In questo punto deve più o meno risultare una cosa del genere Fatto questo prendiamo subito della bellissima calcestruzzo azzurra Eccola qua ragazzi miei e la andiamo a ficcare esattamente qua Non è stata mia intenzione di saltare come un burattino ma è successo Comunque mettiamo subito i blocchetti così e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte Sono un po' un pirla perché clicco di continuo il forno senza abbassarmi Comunque, ok, più o meno questo è l'inizio della struttura della nostra costruzione Adesso andiamo subito a prendere un bellissimo blocco di legno di quercia scortecciato Andiamo a fare una robina del genere sia di qua che lo facciamo anche di qua In questo modo qua Andremo sopra questo blocchetto qua e ci alzeremo di quattro blocchi Faremo 1, 2, 3 e 1, 4 Al blocco più alto andremo ad affiancare un bellissimo legno di quercia scortecciato Ne mettiamo un altro dopodiché togliamo il primo Compiuta questa cosa andremo a togliere questo blocco Ci mettiamo un blocco di legno scortecciato Andiamo subito qua di fianco e ne mettiamo un altro anche qua dietro E subito dopo lo accompagniamo con un pistone sempre comunque appiccicoso Adesso andiamo subito qua di fianco e gli mettiamo un bellissimo blocco di lana Andiamo qua sopra e prendendo un bellissimo calcestruzzo bianco Anzi prima un bel fornelletto Un bel fornelletto qui Lo andiamo a posizionare esattamente qua sopra Ci mettiamo calcestruzzo bianco Olè in questo modo qua Se non cado di sotto Porca miseria Adesso andiamo qua davanti Prendiamo un altro pulsantino E glielo ficchiamo in faccia In questo modo qua ok Detto questo ho fatto quest'altro Come mi pare andiamo subito a prendere un altro pistone E facciamo l'esatto opposto di questo Questo guarda in qua Mentre questo guarderà in qua E prendiamo un bellissimo blocco di redstone Esattamente questo qua sotto E lo cacciamo davanti Che ce ne priviamo E' ovvio che no Quindi per cui fatto questo Andiamo a mettere un blocco di redstone qua sotto E andremo ad attivare volgarmente questo blocco Questo vorrà dire solamente una cosa Che noi adesso potremo andare a togliere questo blocco Per metterci al suo posto un bellissimo fornelletto Forno qui possiamo fare anche Guardate il forno qui E possiamo anche già fare il forno qua Anzi volendo possiamo anche già fare Una cosa molto 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 bella Tipo facciamo una robina così Facciamo una robina così E già possiamo chiudere la parte sopra Che questa sarà più o meno la chiusura del nostro ascensore Sarà la parte limite dove noi appunto andremo Adesso potremo andare direttamente qui sotto Dove c'è la nostra lana sola soletta E andiamo a fargli un po' di amici Facciamo uno così E facciamo uno così Scusate io il forno non riesco a non cliccarlo Ok allora Prendiamo subito della polvere di redstone E la andiamo a mettere qua sopra E la andiamo a mettere anche qua sopra In modo da formare una scalettina E non contento ancora Mi sposto di qua C'è un vidico che si è appena fatto del male Non capisco dove sia Ah ok è caduto di sotto Vedi che funziona Vedi che funziona così non arriva No 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 ma adesso arriva Ma adesso arriva lo conosco Allora ehm Fate questo Adesso andiamo subito dall'altra parte E facciamo la stessa cosa con la lana Ci alziamo di due blocchi in questo modo E di qua esattamente di tre blocchi Così Dopodiché in questo buchetto Ci andiamo a mettere subito Un bellissimo ripetitore Senza toccarlo Uno così Limpido limpido Come l'abbiamo appunto creato Andiamo subito qua sotto E andiamo a attivare una torcia di redstone Dopodiché ci mettiamo sopra Della lana bianca In questo modo qui Andiamo subito sopra nuovamente Altra torciozza E ripetiamo la cosa per tre blocchi Quindi totalmente saranno quattro Ne metto un altro qua in cima Ok Mettiamo un'altra torcia Prendiamo un altro blocco di lana Lo mettiamo qua di fianco E ragazzi ci siamo Il congegno è letteralmente finito Adesso Fatta questa cosa Se il villico non mi Cosa cosa vuole il signor villico Perché mi insegue? Non lo voglio il suo cappello Sì è un bel cappello Però non mi serve Se non ammattisco per colpa di questi villici Adesso posso andare qua A chiudere subito Questi blocchetti fin sopra È esattamente così Senza toccare il congegno Mi raccomando E facendo la stessa cosa Anche dall'altra parte Posso rendere finalmente funzionale Il nostro congegno Chiudiamo tutto quanto qua sopra Facciamo una bella chiusura Magari questo ve lo salto anche nel video Perché altrimenti diventa un po' noioso Qua non dimentichiamoci ragazzi Di metterci un ripetitore Perché mi stavo già scordando ragazzi Mi stavo già letteralmente scordando Qua in cima senza nessun tic Sì ho il cervello che funziona se gli pare No perché se poi chiudevo senza mettere quello Poi diventavo matto a capire perché non funzionasse Allora Fatto questo Adesso possiamo Ovviamente qua sopra Chiudere tutto quanto Quindi fare una specie di robina Del genere Qua ovviamente Dovremmo farlo un pochino circondato In questo modo Ok una volta chiuso Adesso io l'ho fatto un pochino enorme Ma è perché comunque non c'ho la casa dietro E quindi non sei Insomma non mi sono regolato Ho cercato di farla stare comoda sotto Che fosse tutto nascosto il congegno Comunque una volta creato avremo Il nostro bellissimo Diciamo Ascensore Ovviamente il legno scortecciato Se non vi piace Dovete metterci qualsiasi altra cosa Come ho detto prima Ci basterà Primere questo pulsante E verremo catapultati letteralmente sopra Questo sarà il nostro appartamento La nostra casa Quello che ci pare Insomma E noi per scendere Faremo la stessa medesima cosa Sapirà Scenderemo E poi si tornerà a chiudere E sarà molto easy Perché avendo lo slime sotto Non ci faremo nessun tipo di danno E potremo andare a fare Le nostre assolute cose Questo non richiede nulla di particolare Si può fare in tutte le versioni di Minecraft Anche perché non ci sono gli osservatori Come in alcuni ascensori Che abbiamo fatto a tempo fa E quindi riusciamo A farlo partire Veramente Veramente Ovunque E questo era anche tutto quanto Per quest'oggi È stata una delle costruzioni Più semplici che abbiamo fatto Però devo dire Assolutamente Molto molto utile Nel caso vogliate Un ascensore in casa Che vi porti al piano superiore Senza troppa fatica Ragazzi Lasciatemi magari la vostra Sotto nei commenti Di cosa ne pensate Questo era anche tutto quanto Per quest'oggi No ragazzi Con ci possiamo beccare Anche in un prossimo video Adesso tornerà sicuramente Il villico a importunarmi Quindi io vi lascio Viva Next È tutto